E' un po' come se ci fossero due mondi qua fuori. Chiaro e scuro. Warm and cold. Invitante e impervio. Dolci colline. Liegen am fuße von zerclüfteten gipfel. Casa accoglienti e cibo caldo. Bieten schutz vor den grauen elementen da draußen. Una splendida luce dipinge le montagne. Bevor dunkle wolken sie wegspurren. Queste montagne trascendono i confini. Sprache. E' il tempo, mormorano dal passato. Und reichon gleichzeitig in die Zukunft. Das sind die Alpen. Tronso Alpen. Queste sono le Alpen. Finale. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.